Sono come animali che scendono le finestre, ogni giorno si prendono il treno e i bus e tutto, e si combattono a noi e facendo problemi. In fine, si scendono e dicono che sono syriani. Qui la tensione tra afghani e syriani è alta. Secondo gli afghani, i syriani vengono favoriti nelle partenze. Grazie per la visione!